Salve, mi chiamo Maria Teodolinda e collaboro con diverse università come docente a contratto nei corsi di specializzazione per l'insegnamento delle attività di sostegno. Se ti interessa il tema dell'inclusione scolastica, allora non perdere l'occasione, iscriviti al link che trovi in descrizione, così da rimanere aggiornato su tutte le iniziative di diversi tutti. Come abbiamo avuto modo di vedere in un precedente video a proposito della sentenza del Tar del Lazio 1322 del 2021, l'indicazione motivata del fabbisogno di sostegno da garantire all'alunno disabile per l'anno scolastico successivo è elemento essenziale del PEI. In questo nuovo video del format PEI-CF, la risposta alle tue domande, vi propongo quegli elementi essenziali da portare a sostegno della motivazione elaborata dal GLO. Per prima cosa voglio richiamarvi i tre principi guida a cui attenersi nella formulazione della richiesta delle risorse. I principi sono il principio di correttezza, il principio di equità, il principio di responsabilità. Questo perché la richiesta di risorse comporta, cito testualmente, le linee guida, considerevoli ricadute sugli impegni di spesa per la pubblica amministrazione. Detto ciò, come procedere nella richiesta di risorse? Innanzitutto fondandosi sui bisogni dell'alunno. Ma questi bisogni dovranno essere rilevati da documentazione ufficiale, quindi in primis dal profilo di funzionamento su base ICF. In assenza di questo, come sapete, le ASL si stanno aggiornando in tal senso e ancora sono in attesa delle linee guida da parte del Ministero della Salute, ma diverse ASL stanno già procedendo all'elaborazione del profilo di funzionamento. In ogni caso, qualora fosse assente, bisognerà rifarsi alla diagnosi funzionale e all'eventuale profilo dinamico di funzionamento. Sono assenti entrambi i documenti? Allora date un'occhiata al video dedicato proprio a questo argomento. E ovviamente alle osservazioni che il team docente o il consiglio di classe farà su quello studente in quel determinato contesto scolastico. Ma anche in questo caso parliamo di osservazioni oggettive, tra virgolette, o comunque di rilevazioni effettuate con strumenti adeguati. Considerati quindi i bisogni speciali di ciascuno studente, la richiesta di risorse bisognerà che sia coerente con il loro effettivo utilizzo. Che cosa significa questo? Che bisognerà nella motivazione specificare Che utilizzo si farà delle diverse risorse richieste? Quali interventi? Quali obiettivi raggiungeranno di quelli inseriti nel PEI? Non solo, bisognerà indicare l'eventuale organizzazione che possa rispondere a quelle criticità quantomeno prevedibili. Come ad esempio nel caso dell'assistenza di base la formazione dei collaboratori scolastici o la loro assegnazione nel rispetto del genere. Per quanto riguarda il docente di sostegno, si fa riferimento anche ad un uso improprio, come ad esempio la sostituzione di colleghi assenti, e questo è risaputo. Ma si fa anche riferimento all'uso improprio di un utilizzo per un supporto generico alla classe. Quindi anche l'insegnante di sostegno. Quale intervento andrà ad effettuare? Per quale obiettivo? E le linee guida fanno l'esempio di una didattica fortemente personalizzata, dando per scontato che la didattica personalizzata sia una modalità, una metodologia che utilizzi normalmente il docente curriculare. Per cui soltanto una didattica fortemente personalizzata che richieda un ulteriore supporto giustificherebbe la presenza e l'intervento dell'insegnante di sostegno. Bene, quindi nella richiesta delle risorse dovremo tenere conto da una parte dei principi richiamati all'inizio di questo video per evitare l'utilizzo improprio delle risorse e lo spreco del denaro pubblico. Dall'altro però mi piace ricordare quelle che sono le indicazioni etiche dell'utilizzo dell'ICF. Tra le indicazioni etiche per l'utilizzo dell'ICF a livello sociale come nel caso della quantificazione oraria delle risorse si precisa che l'ICF e tutte le informazioni derivate dal suo utilizzo non devono essere impiegati per revocare dei diritti o per limitare il diritto legittimo a particolari vantaggi di individui o gruppi. Bene, fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Per questo video è tutto. Grazie per l'attenzione e alla prossima!